Buonasera ai telespettatori di Rete7, vediamo insieme le notizie di stasera e di domani. È in corso e proseguirà fino alle 21 un presidio in Piazza Castello Angolo via Garibaldi della comunità egiziana contro i gravi fatti accaduti in Egitto. Veniamo alle notizie di domani, mercoledì 29 novembre, dalle 7 alle 19, lavori in via Lagrange Angolo Corso Vittorio, dalle 7 alle 20, in via Gramsci Civico 3, lavori di trasloco in via Monginevro 163. Possibili disagi all'utenza domani tra le 7 e le 11.30 ai nostri sportelli causa assemblea sindacale. Domani dalle 8 alle 19.30, dopodomani dalle 8 alle 18.30 all'Ingotto Fiere Aerospace e Defense Meeting. Domani e dopodomani proseguono i presidi dalle 6 alle 13 fronte la porta 5 della Fiat Mirafiori di Corso Agnelli. Domani sera alle 21 allo Stadio Olimpico Grande Torino torna il calcio, l'appuntamento è con Coppa Italia Torino Carpi. Ci sarà la chiusura di via Philadelphia e quindi la deviazione dei mezzi pubblici, le linee 17 e 17 barrato, a partire dalle 14.30 sino a fine servizio. È tutto, buona serata, buon viaggio e a domani.